Allora questi tre minuti li dedichiamo a una vergogna, ma veramente una vergogna che stiamo subendo noi qua nella zona di Masone. Allora fate conto che noi siamo entrati, siamo entrati ad Albissola sull'autostrada, abbiamo parte la coda, le chiusure, siamo arrivati a Voltri, a Voltri l'autostrada è chiusa. Cosa facciamo? Non possiamo girare verso Ovada, verso il Piemonte. Va bene, allora scendiamo a Voltri, scendiamo a Pegli, scendiamo giù e andiamo tramite il Turchino fino a Masone per riuscire ad arrivare a Ovada. Arriviamo a Masone, giriamo senza indicazione su una parte, giriamo per prendere l'autostrada e andare a Ovada. Perché? Perché la strada di Masone a Ovada, scusate ma sono agitatissimo, la squadra di Masone a Ovada è interrotta da un anno e passa. Allora prendiamo l'autostrada, ma prendiamo all'autostrada, arriviamo, paghiamo, si apre la sbarra, entriamo dentro e arriviamo all'incrocio Masone-Genova. C'è un uomino che mi dice, no signori, voi qua non potete entrare perché l'autostrada è chiusa per Ovada. Allora cosa succede? Torniamo indietro, facciamo retromarcia per riuscire a Masone e dice, no, voi dovete andare fino a Genova, passate da Seravalle e uscite a Ovada. Allora noi abbiamo detto, no, noi torniamo indietro e qualche modo troveremo per arrivare strade secondarie, per la Ovada. Ebbene no, perché tornando indietro fanno una multa di ben 74 euro, in poche parole, paghi da? Bari. Da Bari, è il nostro cameraman ci sta, paghi da Bari. Ora io vorrei solamente dire questo, adesso siamo qua che stiamo ospitando i carabinieri, poi vedremo di fare una ripresa anche con loro e ci faremo spiegare che schifo è il sistema di gestione dell'autostrada italiana. Ma non è finita qui perché adesso stiamo aspettando i carabinieri che arrivano e poi continueremo. Ecco, quindi abbiamo chiamato i carabinieri, i carabinieri non hanno potuto venire qui a vedere però ci hanno assicurato che andando al punto blu di Alessandria ci viene restituito, diciamo, la multa a quella che ci hanno fatto. Però questa è la situazione delle autostrade, ragazzi dovete andare a Genova o passate dalla Seravalle oppure c'era anche un'altra macchina di una coppia giovane che anche loro non sapevano perché loro dovevano andare in Alessandria. Bene, gli hanno fatti fare retromarcia, gli hanno fatti andare a Genova, Genova, Seravalle, Seravalle, Alessandria. Voi pensate nel 2012 che schifezza dobbiamo vedere, 2012 magari, noi ci siamo nel momento, guardate sono fuori di te, non mi avete mai visto così? Oggi mi avete visto. Ci vediamo ai prossimi tre minuti.